Grazie a tutti. Credo che ci siano delle agenzie che si inventano di sana pianta le mie dichiarazioni. E questa non c'è. Allora, gliene dico un'altra e poi la lascio. Lei sarà tra i papabili, si candiderà in questa rosa dei futuri premier del Movimento Cipresa? Grazie per l'interesse. È una domanda. Le rispondi, io poi me ne vado. Assolutamente no. Quindi lei non ci sarà tra questa lista? Grazie mille.